è quasi giunta al termine la 73 edizione del festival di sanremo e tutte le co conduttrici di amadeus hanno oramai calcato il teatro dell'ariston durante la serata delle cover è stato il turno dell'attrice chiara francini spigliata e abile sul palco la performance della comica toscana è stata molto apprezzata mettendo d'accordo stampa e pubblico peccato che il suo monologo a differenza di quello delle altre co conduttrici è andato in onda a notte inoltrata con un audience ridotta vista l'ora tarda questo slittamento di scaletta ha lasciato l'amaro in bocca a molti tenendo in considerazione che la francini è l'unica tra le sue colleghe effettivamente del mestiere sul tema è intervenuta anche selvaggia lucarelli che ha criticato tale scelta del festival della canzone italiana nei giorni scorsi la giornalista non ha speso parole positive nei confronti delle donne scelte da amadeus per affiancarlo nella sua quarta conduzione del festival le critiche più feroci ovviamente sono state riservate a chiara ferragni ma anche gli interventi di francesca fagnani e paola e gonù sono stati oggetto di critiche entrambe secondo la scrittrice erano fuori luogo e inadatte al contesto cambio di rotta invece nei confronti della francini giustamente il monologo di chiara francini l'unica che sa governare un palco a notte fonda aveva già scritto selvaggia su twitter nella serata di venerdì 10 febbraio in mattinata è arrivato come di consueto il parere della lucarelli sulla serata e ha spiegato perché rilegare l'intervento dell'attrice a tale orario sia stato un peccato chiara francini che piaccia o no quello che mette in scena ha funzionato perché ha portato il suo mestiere la sua maschera il monologo che recita a teatro i suoi abiti e siccome non era un donna panda ma uno dei guardiani dello zoo le è stato dato poco spazio il più importante a notte fonda lo intanto la ringrazio per aver parlato oltre che di maternità in modalità antipancina di odio necessario che è quello che va esercitato strenuamente non nei confronti delle persone ma del sistema del suo malfunzionamento nei confronti di ciò che è profondamente ingiusto grazie a tutti